La seconda ondata di covid prevista per l'autunno è arrivata, ma nonostante l'allarme lanciato da mesi, nulla è stato fatto per prevenire i disagi che oggi puntualmente si verificano come ritardo negli esiti dei tamponi, evitabile con una programmazione più efficace da parte degli enti competenti. A distanza di otto mesi restano solo due laboratori in grado di processare il gran numero di tamponi prelevati su presunti casi covid in tutti gli ospedali dell'aslo di Salerno, causando conseguentemente risposte tardive. Il caso di Giulia e Samuele, costretti a partire in direzione Genova per un importantissimo ricovero al gaslini, programmato dallo scorso gennaio senza però, a distanza di quattro giorni, essere stati in grado di ottenere l'esito dei tamponi necessario per poter accedere al gaslini, trova oggi una spiegazione grazie all'inchiesta realizzata dal quotidiano La Città, che ha fatto emergere il caso generato all'interno degli unici due laboratori molecolari autorizzati dalla Regione Campania per tutta la provincia, ossia quello dei ruggi d'Aragona di Salerno e il laboratorio del Maria Santissima Adolorata di Eboli. Ma non è solo il caso di Giulia e Samuele a preoccupare, cresce il numero di persone che sono in attesa dell'esito dei tamponi, nonostante prelievi siano stati effettuati regolarmente. I test sono fermi in laboratorio. L'incessante lavoro di tecnici e biologi non è sufficiente a velocizzare i tempi di risposta. Aumentano di giorno in giorno i tamponi nasofaringei prelevati presso gli ospedali dell'ASL e dai sanitari dell'unità operative distrittuali, ma una volta giunti in laboratorio restano fermi per l'impossibilità a smaltire le giacenze. Circa 2.000 campioni processati giornalmente presso i ruggi provenienti dagli ospedali dell'ASL di Salerno a cui si aggiungono i tamponi prelevati internamente alla struttura. Per il Santissima Adolorata di Eboli la situazione non cambia. 500 tamponi al giorno per un totale di circa 2.000 tamponi processati nel weekend e tanti, troppi ancora da analizzare. A otto mesi dall'inizio dell'emergenza Covid, nonostante la prevista e più volte annunciata ripresa dei contagi, la Campania e la provincia di Salerno sono ancora impreparate ad una gestione efficace ed efficiente. L'attivazione dei laboratori molecolari in più ospedali avrebbe sicuramente evitato la paralisi di ritardi.